benvenuto nel mio canale siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente non dimenticare di premere il pulsante di notifica jacock seversen e karen bursin sono diventati i favoriti della stampa spagnola la nuova serie di canal di jacock seversen firmata da iapm è stata proiettata con il suo primo episodio giovedì 6 luglio e ha conquistato la grande ammirazione del pubblico non solo in turchia con le sue promozioni pubblicate sullo schermo il primo episodio della serie ampiamente parlata in molti paesi del mondo era in cima alle liste dell'agenda dei social media in un totale di 16 paesi come italia spagna russia e brasile questo successo di jacock seversen e karen bursin l'attore protagonista della serie questa volta ha trovato ampia copertura sulla stampa spagnola nelle news pubblicate oltre al lancio di jacock seversen turchia di karen bursin e è stato anche detto che è incluso nelle tendenze dei social network nel mondo si prevede che sarà la serie tv più bella e più vista di questa estate se il successo desiderato viene raggiunto quest'estate come sembra potrebbe continuare nel nuovo periodo di rilascio era così nelle nostre notizie se ti piace premi il pulsante mi piace non dimenticare di iscriverti ci vediamo nel prossimo video arrivederci ciao 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 ciao